Gibbs, tarda a testugire di mare, ce l'hai fatta? Sì. E confido che abbia dato profitto alla nostra impresa congiunta. Rifatti gli occhi. La bussola mi ci ha guidato subito. E gli uomini di Barba Nera al quartiere della nave? Ho adottato la medesima manovra che impiegammo in Nuova Guinea. Era un peccato lasciare un'intera flotta, ti pare? Peccato mortale. Oh, io quella scimmia. Abbiamo la perla. Hai idea di come tirarla fuori? Ci servono tre capre. Una clessidra, una balestra. Uno deve imparare a suonare la tromba mentre l'altro fa così. Conosco uno che ha una capra. Bene, io faccio così. Bene, io faccio così. Bene, io faccio così. Bene, io faccio così. Bene, io faccio così.